Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale Oggi sono qua tornati su Stambul Guys, finalmente siamo qui con il secondo episodio Mira quando ragazzi, per noi tutto, like, iscrizione, campagna Condividete questo video con tutti i nostri amici Mira quando, restate sempre aggiornati sul mio canale per vedere tutti i nuovi video che pubblico Allora, praticamente ieri Che per me era lunedì E che per voi era Boh, vabbè Praticamente ho fatto la mia prima vittoria su Stambul Guys Sono arrivato a livello 4 di esperienza con 1900 punti e 120 trofei Signore, io direi che possiamo subito andare a giocare La skin è sempre questa, anche se non è un'altra, però non mi fa impazzire Poi vediamo un po' se cambiarla Le modalità, devo dire la verità, mi stanno capitando sempre le stesse Vediamo un po' Ah, questa non mi è mai capitata Ok, finalmente una modalità nuova E ci godo tantissimo Non l'ho mai fatta questa modalità, tra l'altro Sì, dai Ormai Stambul Guys è un gioco che stanno portando tanti youtuber famosi Per questo anche l'ho iniziato a portare Se proprio devo dire la verità Aia Allora Proviamo a fare una roba del genere Ok Dai, per ora semplice, per ora Speriamo dopo perché Aia, ecco qui, già inizia La situation è qua Non è semplice Ok Dai Sì, abbiamo giambato non so come Uh Facciamo così Ok Adesso come È proprio così Uh, sono passato, non ci posso credere Ecco È morto Aia Mo, è Il finale non è per niente semplice Non è semplice il finale Eh, niente Aia, regà Aia No No, regà, è impossibile Il finale è impossibile No, no, ma Incredibile No, ma No, no, è impossibile, regà Impossibile No, è proprio impossibile Materialmente No, no Cioè, ma Come si fa a fare sta modalità? Scusatemi Buona, non ci riesce nessuno Cioè, non ci riesce No, eh, no È troppo difficile, regà Sta modalità Cioè, allora All'inizio devo dirvi la verità E la semplice Poi, regà La fine è veramente difficile Cioè Se proprio dovesse sincero La fine è veramente Veramente complicata Ok, vabbè Questi sono gli altri Che hanno vinto Bene, prega Mo, ceppa Ok Allora 20 Ok In questa seconda partita Vediamo un po' Dove Capitiamo Se non mi capitiamo Nella modalità del calcio Spero di no Perché voglio fare modalità nuova Però E' un po' Tre anni solo per La modalità Ve ne è un po' Ancora questa Cristo Ancora questa Ancora questa Che rottura Che rottura Che rottura di palle Vabbè Ce ne faremo una ragione Ok Facciamo così Ok No, ecco Qua è colpa mia Perché Ok 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 Non è passato Allora Facciamo una roba del genere Facciamo Così Morto Ti pareva Non ci andiamo a morire Ok Non sono morto Miracolo Ahia Ahia Che rischio E' morto E' qua Oh Cioè Cioè devi proprio aspettare Il momento Che È proprio giusto Perché Se no Sei fritto Ok Rimaniamo Ovviamente In vita Ok Sogniamo Incomodità Allora Quella di laser Per me è semplice Però Alla fine In realtà è complicata Quindi Non so Vorrei magari una nuova E' un po' 3 2 Ora Via Vediamo un po' Cosa ci capita Uh Questa non mi è mai capitata Cattura bandiere Carina Sembra carina Sembra carina Ma non so cosa sia Coppia Ah Siamo proprio in squadra Tipo Ah Ah Tipo Allora Ok Così Ah Devo Ah Ok Ahia Dobbiamo tipo rubare le bandiere Eh Qui Team Fanno la differenza Se a 4 Se a 4 E' bella tosta Eh Eh no Hanno vinto Mi sa Perché Stavano tutte Le bandiere Cioè No Hanno vinto Praticamente Cioè Sì Sì Hanno vinto In teoria Non ho mai giocato A sta potenza E manco mi piace Sincero 8 a 3 Ragazzi Stanno massacrando I gambelli Hanno vinto Mi sa Ragazzi Sta modalità Fa schifo Ok Ok Eh no Sto spiegando un po' Noi nazi No No L'abbiamo persa Eh Qui Anche la squadra Fa la differenza Aia Madonna No È impossibile No Ma dai No Veramente Impossibile Regà Ma hai visto Una modalità Più difficile Di questa Una cavolata Veramente Assurda 8 a 4 Regà Una modalità Schifosa Veramente Una delle più brutte Che abbia mai giocato In vita mia Ok Andiamo Anzi No Volevo provare Uno skin Ma Che Non l'abbiamo mai usata Quindi Questa qui Ecco Non mi piace tanto Però Vediamo un po' Se Può essere carino Nella sua È normale È abbastanza Chill Però Molto meglio Quella di Del box Secondo me Vediamo un po' Che modalità Ci capita Vabbè Classica Classica Ci ho fatto la playlist Su quante volte Mi è completata Sta modalità Ok Andiamo di qua Ok Facile Già abbiamo Sarebbe primo Anche se Qualche volta Arriviamo anche prima In classifica Non è evitato Non è evitato Arrivare primi Però Non c'è Ok 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 Vediamo un po' Come arrivo Terzo Non è male Dai Vorrei arrivare Prima Ogni tanto Però Questa Mi piace Come modalità È molto più Dinamica È più Veloce Anche Per quanto Mi riguarda Ok Dai Andiamo Vediamo un po' Che modalità Ci capita Stavolta Vediamo un po' Comunque Lasciate like Se volete un video Che c'è Magili Gamer ZDS Su Stumbleguys Uh Questa non mi è mai capita Sembra carina Sembra Però Eh Più o meno Mi sembra un po' Qua Aia Ah Uh Ok Ok No Uh Ok Ok Aia Mannaggia Ok Va bene Diciamo che qui Ci vuole anche un po' Di fortuna In sta modalità Però Devo cercare Tipo di Aia Ecco Eh no Ci vuole fortuna Uh Sono passato Ok Ma non è solo Se sia ancora Qualificato Aia Aia Ma tipo qui Come si fa a passare Ma tipo qua Come No Regà È impossibile Ma come si fa a passare qui Oh No È impossibile Ma Cioè Ma come si fa a passare qui Assurdo Assurdo Mi sembra un po' Strava Vabbè Ma Ma come si fa a passare qui Ma come si fa a passare qui Ma come si fa a passare qui Aia Ma come si fa a passare qui Mi sembra Ma come si fa a passare qui